30.000 visioni 30.441 30.441 30.441 30.441 felice pasqua felice pasqua sono felice come una pasqua perché c'è 30.441 visioni 30.441 visioni ciao sono molto contento di condividere con voi le mie esperienze ieri ho caricato tre video e più presto ne caricherò molti altri vi ringrazio dei vostri apprezzamenti e saluto tutti che si sono iscritti al mio canale come vedete sono ritornato a fare la stessa dietro Trevisan, Ammetta, Marco Travaglio e tutti gli altri Mimo Corcione io farò del mio meglio per registrare nuove cose ma mi sento in dovere di fare questo ringraziamento a tutti voi perché già l'ho fatto per altre tappe i 5.000 ascolti, i 7.000, i 10.000, i 20.000 adesso stiamo a quota 30.000 e forse io sto sempre più vicino per poter avere delle gratificazioni da youtube perché io sono youtuber, sono partner però sono disoccupato, vi ringrazio a tutti voi per appoggiarmi e fare clic nei banner pubblicitari, ciao dal vostro santo in santo salve care amiche ed amici Innanzitutto vi voglio ringraziare di seguirmi infatti quello che andiamo a proclamare adesso è tataan di aver raggiunto insieme le visioni 30.441 appena annotate vi ringrazio a tutti voi che nel giro quasi di un anno e due mesi perché era del 7 febbraio mi sembra che ho aperto il mio canale di youtube santenchan abbiamo raggiunto insieme visioni 30.441 vi prego di far vedere ai vostri amici parenti conoscenti familiari contatti anche nemici tanto non saranno nemici miei i miei video di farli mettere nella lista dei favoriti di farli votare mi piace di farli guardare e di farli iscrivere al canale per favore perché io sono disoccupato poi un'altra cosa ho da comunicarvi tataan felice pasqua a tutti care amiche ed amici spero che ci portino tanta pace e serenità soprattutto al nostro amato paese e poi vorrei vedere realizzare delle cose più importanti a parte una vittoria nel mondiale di calcio magari che cambi per il meglio la politica ma con tutti i cambiamenti politici che ci stanno per il peggio riducono il numero di senatori e parlamentari per rappresentare meno alla gente ma ci saranno più spesse per fare l'operazione vabbè ma adesso volevo vando a queste discussioni che le farò in un altro momento volevo complimentarvi con voi e anche con me stesso per le 30.441 visioni e spero che fra sei mesi ci ritroviamo a festeggiare le 300.000 visioni e poi mi piacerebbe avere più iscritti soprattutto della zona di casal palocco roma comunque felice pasqua non so se mi prenderò una pausa o il fine di settimana che pasqua caricherò dei nuovi video lo saprete soltanto guardando il mio canale il vostro canale perché è di tutti quelli che lo guardano poi vi ricordo che se volete collaborare con me perché io possa mettere il vostro video nei miei video fate questo no guardando alla camera potete fare dei brevi videoclip che voi caricherete in common creative così io li posso aggregare i miei video per fare le recensioni librarie no e i commenti ai libri accattatevilo è uno se voi guardate qualche mio video sui libri è una slogan che io avevo cognato no accattatevilo oppure niente cocodimeno che mi piacerebbe che assieme ai vostri amici parenti familiari ma magari vi mettete in fila due o tre file quelli davanti inginocchiati quelli di dietro in piedi quelli in mezzo seduti e che fare così tutti quanti insieme accattatevilo filmatevi che poi io carico come fanno in altri canali che inventano degli slogan e li mettono all'inizio e alla fine del video oppure niente cocodimeno che se mi volete fare questo favore firmatevi dicendo queste frasi poi io non so come bisogna aggregare al video di uno i video che ti mandano appunto in common creative sarebbe meglio perché voi lo caricate nel vostro canale di youtube e io lo uso nel mio o qualcosa del genere non so come si possa essere collaboratori in youtube beh comunque grazie per seguirmi per sostenermi e per appoggiarmi mi sento molto soddisfatto quando mi seguono io faccio tutto questo per dare il molto poco che ho da dare agli altri grazie ancora una volta per darmi questa opportunità e grazie a tutti quelli di youtube arrivederci il vostro amico saint jean come dicevo oggi è giovedì 17 aprile e sono tornato da fare la stessa al più presto comporrò questo video per ringraziarvi tutti voi che tanto gentilmente mi seguite e mi supportate in tutte le mie creazioni spero di fare del mio meglio per trasmettere sempre qualcosa di nuovo e qualcosa di buono anche grazie a tutti voi per stare con me e assieme a me mi raccomando fate vedere i miei video il mio canale a quanti più amici parenti familiari contatti avete in tutti i media sociali anche se volete i vostri nemici perché non necessariamente saranno nemici miei vi saluto il vostro disoccupato saint jean che con questo spera magari di realizzare il suo sogno di scrittore ciao ciao che caldo che fa ciao